Il Natale che si avvicina ogni giorno, di più sono tante le iniziative messe in campo anche di beneficenza dalla Camera di Commercio. Oltre 10.000 visitatori attesi a Castel dell'Ovo e più di 100 figuranti con gli abiti del 700 per la terza edizione e il presepe vivente delle arti e dei mestieri. I pranzi di soglia d'età per i più bisognosi nella Galleria Principe di Napoli, presso la comunità di Sant'Egidio e in Curia con il Cardinale Crescenzo Sepe. Il tradizionale concerto di Natale al Duomo, spettacoli e concerti gratuiti nei teatri napoletani e nelle chiese del Centro Storico per i turisti, ospiti negli alberghi. Sono alcuni dei principali eventi del programma di iniziative di promozione delle attività realizzate dalla Camera di Commercio di Napoli in occasione delle prossime festività natalizie. Così il presidente dell'ente Maurizio Maddaloni. Un Natale all'insegna della sobrietà ma al tempo stesso un Natale vicino al mondo delle imprese, vicino ai commercianti per le tante iniziative che abbiamo fatto al Bomero, a Chiaia. Iniziative che quest'anno non sono state quelle delle famose luminarie, cosa che peraltro per ben tre anni la Camera ha fatto svolgendo una funzione di supplenza alle gravi carenze di chi avrebbe dovuto farlo e che peraltro finalmente quest'anno sono state realizzate, mi piace sottolinearlo, con i soldi dei turisti e degli imprenditori.